Amiche ed amici di Pachino Camp News, un saluto dal bossio Menzortino e dalla candidata al regionale 2017 Noemi Agnello. Buonasera. Bene, ci troviamo presso la sede qui del comitato elettorale in via Libertà 5 accanto al Golden Point. Da poco qui sono giunti alcuni cittadini di Pachino che hanno voluto conoscere Noemi Agnello, hanno posto delle domande. Ebbene, innanzitutto, visto quello che accade su Facebook e su alcuni che strumentalizzano Noemi Agnello e di Pachino e di Catania e di Noto, chi è Noemi Agnello e dove vive? Bene, io sono nata a Catania, in ospedale di Catania, datemi una colpa. È vero, i miei sono originari di Scordia, ma come molti sanno, noi viviamo a Pachino da più di vent'anni, abbiamo delle aziende a Pachino, una casa a Pachino, quindi paghiamo le tasse a Pachino. Io ho delle case a Pachino, pago le tasse a Pachino e come tale mi piacerebbe avere dei servizi che funzionano a Pachino, visto che è il mio territorio. Quindi giusto per... Anch'io sono nata a Modica, però sono di Pachino. Ah sì? Sì, quindi siamo Pachinesi allora. Bene, Noemi Agnello veramente non per, al di là di ogni scherzo, a mio avviso è di Pachino. Quindi appunto la famiglia, un'azienda, tanti Pachinesi lavorano grazie alla vostra azienda, quindi si innesca un motore economico. Qui ci tengo a precisare che a me piace tantissimo il confronto, quando posso sono qui in sede, quando posso rispondo a Facebook, email e quant'altro. Il problema è che sono sempre in giro, adesso sono appena tornata a Francofort, ho fatto un bel giro a Lentini, Siracusa, America, Siracusa. Quindi quando posso rispondo a tutti, mi piacerebbe parlare con tutti per esprimere il mio pensiero, che poi la vostra decisione può essere contraria al mio pensiero, ma comunque ci siamo confrontati. Bene. Senza insulti, importante, senza insultare nessuno, perché sarebbe facile insultare. Come dicevo, grande storico, l'attacco alla migliore difesa, noi non dobbiamo difenderci da niente o da nessuno, perciò io non attacco nessuno. Bene. Noemi, tu hai 25 anni? Sì, 26 tra un mese. 26, di come ragioni sembrerebbe molto di più. Sì, mi dicono tutti che sono abbastanza vecchia, però... Allora, appuntamenti importanti, diciamolo, martedì... Martedì mattino incontrerò il Matteone nazionale. Matteo Salvini. Matteo Salvini, specificiamo. Martedì incontrerà Matteo Salvini a Catania. Poi pomeriggio farò un video e spiegherò, insomma, tutto il nostro operato. Bene. Ovviamente, come sempre, seguiteci su Pachinocam News per raccontare l'avventura in queste regioni del 17 di Noemi Agnello. Bene, noi ringraziamo tutti quanti, vi salutiamo. Ciao, grazie. Buonasera, ciao.